Il fiume Belon ha raggiunto la sua piena maturità, questa ottica, viene portata, poi quando ha raggiunto, viene portata sul fiume Belon dove rimane un periodo abbastanza lungo per un finitarsher di circa un anno. Nei parchi dove ci sono i fondali, come vi dicevo prima, sono emergenti e quindi in certi periodi le ostriche imparano a sopravvivere anche fuori dall'acqua e quindi sono particolarmente adatti poi per l'attenzione. Il fiume Belon è una carne venutata a sapore di nocciola marcando con una leggerissima punta di zuccheri.